ciao amici allora oggi siamo qua con la nostra bozza già colorata per fornire tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno al nostro disegno quindi mettiamoci subito al lavoro immancabili i pennarelli a punta pennello per iniziare a preparare i nostri dettagli infatti come vedete io adesso qua sto preparando sto perfezionando la frangetta perché quella che avevamo era solo una base mentre adesso col colore che preferiamo in questo caso un blu più scuro vado a delineare e a preparare i contorni della nostra ragazza quindi aggiungo dei particolari sono molto più libera proprio a livello di dettaglio perché poi una volta che si colore tutto quanto vanno fatti i dettagli c'è chi lo fa con l'acquerello stesso mentre io comunque dipende da come mi trovo però anche fare un mix media insomma un insieme di unire un insieme di tecniche mi piace molto per cui qui sto usando i pennarelli a punta fine quelli che vi ho fatto vedere ieri nell'astuccio grande queste sono le pieghe del vestito ieri è venuto un video lunghissimo quindi oggi ho deciso di interagire così per vedere se la cosa poteva andare meglio e spiegare nel frattempo quello che sto facendo i contorni dunque adesso si procede con si si procede con la luce che arriva da sinistra e col penare col pastello il policromos sto preparando la luce cioè sto schierendo la zona praticamente su cui batte la luce appone apportando dei piccoli dettagli lì dove non li ho non li ho messi e poi anche definendo altri contorni dei capelli insomma li ho indicato no ecco perché il tempo il pastello va sempre temperato perché altrimenti le linee non escono come dovrebbero ed esce un pasticcio quindi per i contorni per qualsiasi cosa ricordiamoci sempre il pastello ben temperato qua sono un passata a diciamo a smorzare un po la luce che avevo inserito col col pastello per dare da alla parte in ombra come dire la sua ombra appunto per renderla più scura e dare un po di movimento comunque al disegno le forme del corpo che ci sono sotto la ragazza piattire la pancia ingradire il seno ecco adesso arriva il pezzo forte che sarebbe il più difficile perché con questo pennello fino fino da nail art è il più fino che esiste esiste vado a fare un lavoro molto difficile che poi alla fine se ci esercitiamo un pochino riusciamo a farlo tutti vado a stabilire bene i contorni del kimono perché questa ragazza comunque indossa un kimono quindi i latti tutte le parti dorate che ci sono che ci sono che c'erano che ci sono nella referenza appunto e poi ovviamente ci ho messo del mio però comunque questo è un gran bel dorato quello di ecoline e devo dire che non mi posso lamentare di questo di quello di windsor e newton non lo ricordo bene però dovrebbe essere denso come questo ecco se vogliamo lasciare qualche rilievo basta impregnare bene il pennello di acquerello essendo appunto un acquerello denso questo si formeranno tutti i rilievi che secondo me sono veramente bellissimi sa tutto io questo per esempio non me lo ricordavo però come inserivo il pennello e alla fine del pennello restava la goccia ho provato infatti ciò che volevo rilievo l'ho avuto in rilievo per dare anche un senso più di tridimensionalità e poi alla fine ho aggiunto tutti questi particolari braccialetti tutte le decorazioni dorate che che può indossare una donna che porta un kimono un po sexy io spero che la mia che la mia ragazza manga vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a iscrivervi mettermi un like lasciarmi un commento e premere la campanella grazie per la visione ciao amici